Questo pomeriggio, rileggendo l'omelia che Papa Giovanni Paolo II fece in quella grande spianata, mi ha dato l'opportunità di comprendere meglio, ecco, proprio il cuore, i sentimenti con i quali il Santo Padre si rivolgeva ai giovani. Lo abbiamo anche ascoltato prima, proprio nelle parole di Francesco Bosco, nel commento di queste immagini. Il Papa già sapeva che sarebbe stata l'ultima volta in cui avrebbe vissuto questa esperienza proprio di poter guardare i giovani di tutto il mondo con un solo sguardo. Infatti, guardando proprio questi frammenti finali del filmato, è commovente rivedere proprio Giovanni Paolo II, questo anziano pastore, curvato, che porta il peso di tutta la Chiesa con questo sguardo perso verso l'orizzonte. Non è il Giovanni Paolo II di due anni prima, attorvergata, che si sveglia, è ancora sveglio, non vuole andare a dormire nel cuore della notte e batte sul manico della poltrona, della sede, il ritmo, il canto dei giovani che lo intrattengono ancora con i loro canti. E un altro Giovanni Paolo II. E questo si comprende ancora di più proprio nelle parole dell'Omelia. Inizia proprio con un invito. Lui prende proprio il brano del Vangelo, voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. Sembrano proprio queste le parole che lui prende da Gesù e le offre ancora una volta ai giovani. Chiede ai giovani di essere coloro che daranno sapore all'umanità. Infatti dirà, voi sarete sale, dovrete umanizzare questo mondo. Ed è anche, sembra un nonno, un padre anziano che si preoccupa di che cosa lascia ai propri figli. E si chiede, quale mondo voi erediterete? Ed è un mondo che già si intravede. Non scordiamoci che in quegli anni, in quei due anni è successo di tutto. Ci siamo affacciati al 2000 con l'ansia un po' di varcare quella soglia e poi, sì, tutte le cose belle del giubileo, tanti cristiani, dice anche il Papa, hanno varcato la soglia della porta santa che rappresentava Cristo, però appena un anno dopo il mondo rimane sconvolto da un attentato, mai prima di allora concepito. Un attentato che colpisce l'intero mondo, non una sola città, quella di New York, l'attacco alle torri gemelle. Se ci pensiamo da lì è cambiata tutta la nostra vita. Fare un viaggio è diventato complicatissimo. E allora è un Papa preoccupato che dice, si chiede ai giovani, quale mondo voi state ereditando? E allora la voce diventa pressante. Lui dice, c'è la voce nel Vangelo, nel Vangelo c'è una voce pressante di Gesù che vi chiede, siate sale della terra, siate luce del mondo. E poi dice, che cosa fare per rimanere nel suo amore? E allora il Papa a un certo punto mette i giovani di fronte alle due scelte, come un padre che dice ai propri figli prima di uscire di casa per andare al lavoro, a scuola, dice attenzione, guarda a destra e guarda a sinistra prima di attraversare la strada. E lui dice, attenzione, c'è lo spirito del mondo e lo spirito di Gesù. Però voi dovete sapere distinguere lo spirito del mondo dallo spirito di Gesù. E poi dice, parla di illusioni. State attenti alle illusioni che vi propone lo spirito del mondo. Sono parodie di felicità. Che espressione forte! Lo spirito del mondo è fatto di parodie di felicità. E l'illusione più grande del mondo è pensare di trovare la felicità senza Dio. Lo dice forte e lo dice con una voce pressante. La voce pressante di Gesù diventa la sua voce pressante. Quella voce che diventa sempre più afona, più interrotta, più pesante sotto il peso degli anni. Ma il Papa lo dice forte. E poi di nuovo rimette in ballo la sua preoccupazione. Il mondo che voi erediterete ha un disperato bisogno di senso di fratellanza e di solidarietà umana. Pone i giovani davanti a questo urgente bisogno che c'è nel mondo. Sono attualissime queste parole anche in questi giorni. Senso di fratellanza. La stessa tragedia che è avvenuta nella nostra Italia, nel nostro sud, in Calabria. C'è bisogno di solidarietà umana. C'è bisogno di senso di fratellanza. Sono nostri fratelli. E allora chiede ai giovani di essere sale, di essere luce, di essere testimoni di questo amore. Il sale che cosa fa? Dice il Papa. conserva, mantiene. E allora dice come il sale è capace di conservare, di mantenere i cibi, anche voi. Se volete essere sale, mantenete viva la consapevolezza di Cristo. Che bello. Cari giovani, voi qui presenti, a voi tutti i giovani nel cuore come me, che abbiamo un po' di anni. A tutti i giovani che ci state ascoltando. Caro giovane, tu hai la possibilità di essere con la tua giovinezza negli anni e con la tua fede e forza di attaccarti al Vangelo, di credere nel Vangelo. Hai la possibilità di conservare Cristo, di salare, possiamo dire, il Vangelo di Cristo e di conservarlo, di mantenerlo integro nel mondo. Mantenete viva la consapevolezza di Cristo. Dove? Dice il Papa. Nell'Eucarestia. Quanti credono nella presenza di Gesù in questo pezzettino di pane? Se dovessimo crederci tutti veramente questa sera la Chiesa non ci conterrebbe. Poi dice nella parola, nella parola stessa, nel Vangelo e nella potenza del Vangelo. E poi il sale dà sapore. Una minestra senza sale e insipida. Allora dice ai giovani, voi avete il compito di dare il sapore all'umanità. Dovete cambiare, migliorare il gusto della storia umana. Dovete umanizzare il mondo. Solo i giovani, dinanzi alle situazioni più disparate. Mentre un adulto ragiona e trova mille ragioni per fare il suo buon peccato di omissione, il giovane non ragiona due volte. Ha l'umanità nel cuore, si lancia. E il Papa sa questo. E allora dice, io ho bisogno di voi. Solo i giovani sono capaci di sciogliersi, ecco come il sale, e di umanizzare. Laddove si trovano, di umanizzare quella realtà. Caro giovane, non avere paura. Non ascoltare i vani ragionamenti degli adulti. E poi si luce, luce del mondo. Vi voglio lasciare con questa espressione del Papa. Ecco, può sembrare che anche una fiammella isolata sia una cosa che fa sorridere, no? Quando si dice tu mi fai il solletico, non mi fai nulla. Invece no. Sentite questa espressione del Papa, mi ha tolto il respiro. Una piccola fiamma può sollevare il pesante coperchio della notte. Pesante coperchio della notte. Quanto è pesante questo coperchio, anche a distanza di più di vent'anni da quei giorni in cui sono state proclamate queste parole. E quanto è pesante ancora il fardello di questi tempi. Sembra quasi che noi luce non ne vediamo. Invece no. Caro giovane, una piccola luce puoi essere tu. E poi il Papa dice, quante luci, anzi quanta luce potete fare se voi vi unite insieme. Voglio concludere davvero con questa preghiera proprio con la quale il Papa conclude il suo discorso, affidando a Gesù tutti i giovani del mondo. Voi siete la nostra speranza. I giovani sono la nostra speranza. Non lasciate che quella speranza muoia. Scommettete la vostra vita su di essa. Noi non siamo la somma delle nostre debolezze e dei nostri fallimenti. Al contrario, siamo la somma dell'amore del Padre per noi e della nostra reale capacità di divenire l'immagine del Figlio suo. Signore Gesù Cristo, custodisci questi giovani nel tuo amore. Fa che odano la tua voce e credano a ciò che tu dici, poiché tu solo hai parole di vita eterna. Insegna loro come professare la propria fede, come donare il proprio amore, come comunicare la propria speranza agli altri. Signore, rendili testimoni convincenti del tuo Vangelo, in un mondo che ha tanto bisogno della tua grazia che salva. Fa di loro il nuovo popolo delle beatitudini, perché siano il sale della terra e luce del mondo all'inizio del terzo millennio cristiano. Maria, Madre della Chiesa, proteggi e guida questi giovani uomini e giovani donne del ventunesimo secolo. Tienili tutti stretti al tuo materno cuore. Amen. Voglio aggiungere un'altra cosa. Ecco, io c'ero in quei giorni, ho avuto la gioia, la fortuna di vivere quei giorni proprio lì. E' davvero, questa sera è un'emozione grande ripercorrere queste parole e riattualizzarle e toccare con mano che sono sempre più attuali.